Il momento positivo si è interrotto sul più bello, ovvero nel derby contro il Cosenza, ma è tempo di riprendere la corsa in casa Crotone, chiamato a un importante sprint finale alla ricerca della salvezza. Nel match di Cosenza la squadra non ha giocato una buona prima parte di gara, ma poi è riuscita a venire fuori nel finale con il gol del pareggio annullato per un fuorigioco che ha fatto molto discutere. Al da di polemiche, squalifiche e ricorsi, il Crotone dovrà pensare al campo, anche perché la posizione acquisita grazie alla precedente striscia positiva permette all'undice di Stroppa di poter guardare solo in casa propria. In tal senso il match dell'uscia di sabato prossimo contro la Cremonese riveste un'importanza fondamentale. Successivamente il Crotone osserverà il turno di riposo prima di affrontare nuove sfide che saranno decisive per riuscire a mantenere la categoria. Bisognerà quindi continuare a pensare solo al campo e a riprendere il cammino interrotto nel match da San Vito Marulla.